Salerno non è varese. Ricorda l'episodio in cui l'allora sindaco Attilio Fontana, poi diventato presidente della Regione Lombardia, utilizzò Salerno come modello di riferimento per incentivare i suoi concittadini alla raccolta differenziata, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, partecipando questa mattina all'avvio dei lavori che riammoderneranno l'impianto di compostaggio di Salerno situato nell'area industriale. Fu proprio lui nel 2011, da sindaco di Salerno, con una scelta coraggiosa e in appena un anno, a far realizzare l'impianto per lo smaltimento della frazione organica, che però, dopo una prima fase di funzionamento, premiata anche come best practice, ha avuto un andamento altanelante, un'inchiesta giudiziaria ed un incendio nel 2016. Oggi, dopo un lavoro che ha consentito alla società Salerno Pulita, guidata da Vincenzo Bennett, di riaccendere. L'attenzione sullo smaltimento dei rifiuti nella città di Salerno, attenzione che si era ammosciata, come ha detto lo stesso governatore, ed oggi invece ritorna a superare il 73%, era il momento di investire sull'impianto di compostaggio. L'obiettivo è arrivare a produrre biometano. Il progetto per accedere ai fondi è stato giudicato ammissibile, ma non ancora finanziato, e De Luca si è già impegnato a garantire la copertura di 16 milioni di euro. Per De Luca, l'impianto di compostaggio di Salerno può diventare a ritornare ad essere un modello di riferimento per gli altri 12 che la Regione intende realizzare sul territorio. Quattro o cinque comuni, i lavori sono pienamente in corso. Credo che nell'arco di un anno e mezzo noi raggiungeremo l'obiettivo di avere altri 12 impianti di compostaggio, che è l'obiettivo che ci ha posto l'Unione Europea per essere autonomi nella lavorazione dell'umido. Ancora oggi, per quanto riguarda l'umido, molto spesso dobbiamo fare lo smaltimento portando l'umido fuori regione con dei costi anche importanti. Abbiamo avuto qualche ritardo perché in qualche realtà c'è stata ancora una resistenza ideologica a fare l'impianto di compostaggio. Qui a Salerno lo abbiamo fatto 15 anni fa. Non è successo niente, è una condizione di piena tutela ambientale ma che ci ha consentito, ripeto, di avere la piena autonomia nella lavorazione dell'umido. Quindi il progetto va avanti. Per quanto riguarda Salerno è stata esempio, lei ha ricordato Varese non è Salerno. Oggi questo impianto diventa una best practice anche per i prossimi impianti che si dovranno realizzare. 15 anni fa avevamo un premio come migliore pratica europea per la realizzazione di un impianto di compostaggio. Poteva essere già allora un esempio per tutta la regione, anche se a volte, ripeto, abbiamo delle resistenze che sono del tutto irrazionali. Adesso possiamo rilanciare questo modello. A Salerno abbiamo avuto, credo, negli ultimi tempi una svolta positiva perché negli ultimi anni ci siamo, come si dice, ammosciati. Nel senso che abbiamo avuto un abbassamento della raccolta differenziata, abbiamo avuto quartieri non all'altezza dal punto di vista della pulizia. Negli ultimi mesi c'è stata una ripresa di attenzione, un efficientamento del servizio, credo anche una nuova attenzione a parte dei cittadini alla raccolta differenziata e siamo arrivati finalmente al 73% di raccolta differenziata, che è sinceramente un primato anche sul piano regionale. Dobbiamo continuare così, essere un modello di città europea per quanto riguarda l'ambiente. Il presidente della regione Campania, a margine della sua presenza all'avvio dei lavori, ha anche, sollecitato dai giornalisti, commentato la sanità annunciando nei prossimi giorni l'avvio di una strategia per ridurre i tempi di attesa. Cominciamo a brevissimo, parlo di settimane, i lavori per il nuovo ospedale Ruggi d'Aragona, un investimento di oltre 400 milioni di euro, avremo un ospedale bellissimo e moderno, così come avremo ospedali nuovi in tutto il territorio regionale. Oggi stiamo lavorando su un altro obiettivo che illustreremo fra qualche giorno, quello di svuotare le liste di attesa e chiederemo che è chiaro che pesa rispetto a questo obiettivo anche la quantità di personale che hai o non hai, ma abbiamo deciso di coinvolgere anche il comparto privato accreditato e contiamo entro l'anno di essere la prima regione d'Italia anche per le liste di attesa. Voglio chiarire che non ci sono problemi per quanto riguarda le prestazioni classificate come urgenti o rapide, quindi se c'è una prestazione che va erogata entro le 48 ore non ci sono problemi, i problemi ci sono per le prenotazioni che durano mesi e questo non è più accettabile, contiamo entro l'anno di risolvere anche questo problema.